Buonasera, benvenuti su MTV all'appuntamento con la nostra rubrica Parliamane. Ritroviamo la dottoressa Fabiola Sperandini che ci ha accompagnato nelle altri nostri due incontri. La dottoressa Fabiola Sperandini, tanto per ricordarvelo, è psicologa, psicoterapeuta ad indirizzo sistemico relazionale. È didatta supervisore presso l'Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale ad Ancona. Si occupa da oltre 20 anni di disabilità, lavorando come psicologa presso il centro di riabilitazione nel villaggio delle ginestre di Recanati e nell'attività libero professionale si occupa di famiglie, individui e coppie. Nelle puntate precedenti, scusate se prendo i fogli ma sono un po' vecchia, quindi la mia memoria un po' difetta un po', abbiamo parlato di genitori, di genitorialità, cosa vuol dire essere genitori e quali modelli di genitori e coppie genitoriali si incontrano. Questa sera parliamo di rispetto dell'altro. Cominciamo subito, intanto buonasera, grazie di essere tornata, i nostri telespettatori hanno apprezzato molto le sue relazioni, questo ci fa felice, anche perché è l'argomento, anche se ne parlano tutti, però non è mai, come ho già detto, a troppo poco parlarne, viste le emergenze e le difficoltà che noi incontriamo quotidianamente nell'educare i nostri figli. Allora, cominciamo subito con la prima domanda, come si sviluppa nel bambino la capacità di rispettare l'altro? Grazie per avermi nuovamente invitato a parlare di questi argomenti così importanti e, credo, interessanti per chi ci segue da casa. Credo che non possiamo parlare di rispetto, di capacità di rispettare l'altro, se prima non si è formata la capacità di distinguere se stessi dagli altri. Questa possibilità di rispettare l'altro si basa essenzialmente su due aspetti, il primo la formazione e la costruzione del proprio sé, l'altro lo sviluppo della capacità relazionale. Non può esserci un io se non c'è contemporaneamente la possibilità di distinguere un tu e quindi un noi. Fin dai primissimi mesi di vita, ma anzi direi fin dai primissimi giorni della vita di un bambino, egli sperimenta, si sperimenta come un'entità a sé stante attraverso il suo rapporto nella relazione primaria con la figura materna. Questo si esplica attraverso essenzialmente un contatto corporeo fatto di sensazioni veicolate da odori, suoni, carezze, movimenti e il bambino impara che il proprio corpo è finito rispetto al corpo materno. Questo processo di interscambio, dove il bambino non è un fruitore passivo, bensì un protagonista attivo, pone le basi per quella che definiamo l'intersoggettività. Aggiungerei anche che il coinvolgimento del papà nell'accudimento del bambino e soprattutto l'esperienza delle prime relazioni triadiche, ne abbiamo un po' parlato nelle precedenti puntate, il rapporto mamma-papà-bambino, aiuti il piccolo ad arricchire le sue prime embrionali esperienze relazionali. Questo favorisce lo sviluppo della differenziazione e dell'individuazione del sé. Ovviamente con il procedere delle tappe dello sviluppo, il bambino non utilizzerà più soltanto il suo corpo, il movimento e gli aspetti senso-percettivi per entrare in relazione con l'altro, ma lo farà anche attraverso lo sviluppo degli aspetti del linguaggio, sia verbale che non verbale. Le relazioni interpersonali che poi il bambino sviluppa nell'ambiente extra-familiare gli consentiranno di ampliare le sue occasioni di confronto, favorendo così una successiva maturazione del sé. Confrontandosi con gli altri, il bambino imparerà a tollerare le differenze, imparerà e svilupperà la capacità di ascoltare punti di vista che non sono quello proprio e in una parola soltanto limiterà il suo senso di onnipotenza e l'egocentrismo che caratterizza i primi anni di vita. Sono d'accordo, cioè è così che dovrebbe essere se c'è anche una coppia genitoriale che segue questo percorso, accompagna alla crescita il bambino. Parliamo anche quando il bambino diventano anche dei ragazzi. Il rispetto e la mancanza di rispetto nei ragazzi riguarda solo l'altro o ha a fare anche con se stessi? Questa è una domanda interessante e un quesito che pone l'attenzione su tanti fatti di cronaca. Negli ultimi anni il disagio adolescenziale, quello che siamo abituati a concepire, a vedere espresso attraverso la rabbia e l'attacco all'altro, ha riempito i fatti di cronaca. Ci siamo abituati ad avere l'attenzione richiamata dalle azioni fatte, eseguite dalle baby gang, gli atti di bullismo, il cyberbullismo. Quello che tuttavia le cronache non dicono o dicono molto poco, raccontano molto poco, sono tutti quegli episodi in cui l'adolescente in realtà passa ad esprimere il suo disagio non tanto esprimendo la rabbia nei confronti dell'altro, ma riversandola verso se stesso. Penso ad esempio all'incremento dell'abuso precoce delle sostanze da parte dei ragazzini, anche molto giovani, all'aumento dei disturbi della condotta alimentare, al ritiro sociale, che dopo il Covid ha avuto particolare espressione, ma anche alle forme di autolesionismo. Penso ad esempio al tagliarsi, che purtroppo è una pratica molto diffusa tra i giovani e i giovanissimi, e non ultimo, purtroppo, nella sua espressione massima, penso al suicidio giovanile. Ecco, tutte queste espressioni riguardano un far del male, non tanto all'altro quanto a se stessi. Credo che, senza voler generalizzare ovviamente, considerando che ogni caso è un caso a sé, e questo lo voglio ribadire e sottolineare, nonostante questo, credo che dovremmo molto interrogarci su quelli che sono gli adulti attorno a questi ragazzi e quanto la fragilità di una generazione come quella degli adulti che oggi si occupano di educazione e di relazione genitoriale attraversano. Una fragilità che, un po' come abbiamo anticipato nelle puntate precedenti, rende gli adulti particolarmente inclini a valutare e a spingere i ragazzi verso il successo, verso la competizione, verso le performance, e poco li allenano sul piano dell'emotività, dell'affettività, ma anche del confine, del limite, della tolleranza alla frustrazione. Ecco, quando una relazione genitoriale coniuga scarsamente affettività in norma, quando la spinta è quella a mantenere una dipendenza psicologica piuttosto che puntare all'autonomia, allo svincolo, ricordiamoci, come abbiamo già anticipato, che questo è il compito evolutivo a cui un genitore deve puntare nel momento in cui un figlio diventa adolescente. Ecco, quando tutto questo non accade, il giovane rischia di sentirsi smarrito, privo di un contesto di riferimento. E quindi forse in quest'ottica dovremmo pensare di interpretare questi atti di autolesionismo un po' come un grido disperato di aiuto, una ricerca di aiuto, uno spingere l'adulto a comportarsi come tale. Ora, lungi da me, considerare la famiglia l'unica responsabile del disagio giovanile ci mancherebbe. Tante famiglie faticosamente esplicano la loro genitorialità nel modo più consono possibile al netto delle loro risorse. Una responsabilità va individuata anche nella fragilità degli adulti che accompagnano questi ragazzi al di fuori del nucleo familiare. Anche qui le agenzie educative come la scuola, come gli adulti che lavorano nelle attività sportive, ma tutti gli adulti che accompagnano i ragazzi e svolgono un'opera di mediazione e un lavoro educativo nei loro confronti, spesso non riescono ad educare all'empatia, al rispetto delle differenze, alla tolleranza del conflitto. E questo spinge i ragazzi a sentirsi onnipotenti, per nulla tolleranti di fronte a un pensiero divergente. Un pensiero divergente che può riguardare la differenza di genere, piuttosto che una differenza culturale, di pensiero, una differenza religiosa. Ecco, credo che da qui agli episodi di violenza che spesso osserviamo, il passo sia breve. Proprio su questo aspetto vorrei che di soffermarci un poco, insomma, un po' di tempo bisogna perdercelo. Non solamente, senza pensare ai fatti di cronaca, io credo che il rispetto, se ne parla tanto, l'educazione all'affettività, come si fa a fare un'educazione all'affettività se chi ti accudisce non è affettuoso. Cioè non è che si impantisce per ordine o perché qualcuno te lo dice, è più l'empatia o lo senti o non lo senti, ma se non è cresciuto in un ambiente empatico, è difficile che questo improvvisamente si diventa anche empatici. Assolutamente, la prima cosa è l'esempio, è il clima che si respira. Allora, io volevo farle due domande così lei costruisce tutto il suo discorso senza che la interrompo continuamente. Secondo lei quali sono le radici della mancanza di rispetto di genere che arriva fino, purtroppo non vogliamo accodarci a tutta la cronaca quotidiana, ma esiste perché è quotidiano, che è più grave che ti portano anche al femminicidio e inoltre cosa può fare l'adulto e quindi non solo i genitori per favorire nella crescita di un bambino prima e di un adolescente poi lo sviluppo e la capacità di rispettare l'altro, ma soprattutto di rispettare se stesso senza ucciderti. domanda complessa, cerchiamo di fare ordine e di trovare una logica appunto in quello che spesso osserviamo, la matrice di quello che spesso osserviamo e che cosa possiamo fare noi adulti per arginare questa ondata di violenza. Innanzitutto direi che al netto delle singole responsabilità di ogni fatto di cronaca per cui ogni colpevole risponde individualmente per le azioni commesse e senza entrare nello specifico perché credo che ogni fatto vada raccontato ed analizzato sulla base di una conoscenza diretta e non semplicemente leggendo i giornali, ecco credo che alla base della violenza di genere e quindi anche del femminicidio ci sia una matrice multidimensionale, non possiamo rintracciare una causa univoca ma più fattori. Da un lato sicuramente un fattore culturale, un substrato maschilista che per fortuna non rappresenta la cultura dominante di questo paese ma tuttavia è ancora diffusa. Non tutti gli uomini, viva Dio, sono violenti ma esistono uomini che concepiscono le relazioni nei confronti della donna come relazioni di potere. Una cultura maschilista che si esplica attraverso una non parità di genere e lo vediamo attraverso le difficoltà occupazionali delle donne, le difficoltà di ricoprire ruoli di potere, di avere un'indipendenza economica, delle differenze legate a compiti e ruoli che sono differenze legate a stereotipi e pregiudizi che ci trasciniamo dietro di generazione in generazione. Credo che l'uomo di fronte all'emancipazione femminile degli ultimi 50, 60, 70 anni non sia pronto a vedere una donna consapevole, una donna emancipata e in grado di ricoprire alla pari i ruoli che fino a qualche decennio fa ricopriva in maniera indiscussa la figura maschile e risponde a questa emancipazione purtroppo con una prevaricazione che passa attraverso la forza, l'utilizzo della forza e della violenza. E quindi questo è un primo fattore, il fattore culturale. Poi ovviamente un fattore relazionale. Quando parliamo di relazioni, le relazioni di uomini che compiono atti di violenza grave o meno grave fino ad arrivare al femminicidio sono relazioni caratterizzate non da una parità ma da un aspetto, direi quasi, una concezione fusionale dell'uomo che concepisce la donna come oggetto d'amore. E dunque l'uomo incapace di reggere alla forzazione dell'abbandono. Di fronte a questo abbandono si ripristina di nuovo il dominio esercitando questa forza, di forma di potere estremo con la forza fino addirittura all'uccisione. Come a dire né con me né senza di me. Non sarai mia ma non sarai nemmeno di nessun altro. E però sposta sull'altro quello che non riesce a fare per se stesso. Praticamente è una scorciatoia fondamentalmente, io credo. Certo, non reggere la frustrazione dell'abbandono. Quell'onnipotenza di cui parlavamo prima, quel senso di non tolleranza alla frustrazione di un no. Quel sentirsi dominatore in qualche modo lo porta a rispondere con un atto di violenza così grave come a dire che non... escludere la possibilità che qualcuno possa esercitare una volontà diversa da quella che lui indica. Essere qualcuno indipendentemente... non riesce ad essere una persona senza il dominio dell'altra. E questa è la povertà di questi poveri uomini? Non riescono a concepire le relazioni in modo da poter tenere, sentire, prima che tenere in debito conto, sentire l'emozione altrui, sentire il punto di vista d'altrui, rispettare l'individualità di chi hanno di fronte. Purtroppo è la mancanza di empatia, no? Assolutamente. Il discorso della reciprocità, l'amore è reciproco, dovrebbe essere reciproco. Comunque... Ecco, questo... no, no, anzi la ringrazio perché questo suo riferimento alla reciprocità ci riporta all'ultimo fattore, a mio avviso, alla base di quelli che possono essere gli elementi che costituiscono questa multidimensionalità alla base della violenza contro la donna. Cioè, il modello educativo e familiare che spesso questi uomini respirano, no? Appunto, uomini cresciuti senza rispetto del limite, dove tutto è possibile, dove la relazione con l'altro è una relazione, dicevamo, di potere. Quindi è fondamentale allenare i ragazzi alle differenze, a reggere la frustrazione del no, e soprattutto educare i figli maschi al fatto che la relazione non è potere, non è predominio, non è fusione, non è controllo. E educare le figlie, perché anche questo è importante, a concepire il rapporto con il proprio partner, non in termini di sacrificio e sudditanza. mi sembra importante che valutiamo non solo come educhiamo i maschi, ma anche come cresciamo le femmine. Ah, questo è in dubbio. Infatti, quando le dicevo cosa può fare l'adulto, lei l'aveva già citato nelle altre puntate. infatti, volevo che, mi scusi, lei parla di differenze, dice educare le differenze, anche di pensiero e avere un confronto con loro. Però ci sono anche altri canoni da rispettare, altri elementi che un genitore deve fare. L'altra volta l'aveva detto, non possiamo essere amici dei nostri figli. Assolutamente. La relazione non può essere una relazione paritaria, lo ripeto. Perché un figlio non si smarrisca, come dicevamo, in riferimento al disagio giovanile che porta i ragazzi addirittura ad autoledersi. Un genitore deve fungere da contenimento, deve essere un punto di riferimento, deve rassicurare e per rassicurare deve fornire una cornice, una cornice fatta di limiti e di confini, a fianco alla quale deve essere fondamentale l'affettività, il riconoscimento delle emozioni, lo sviluppo di quella che noi definiamo intelligenza emotiva, cioè il saper riconoscere ed esprime in maniera adeguata le nostre emozioni e riconoscere le emozioni dell'altro. Quindi questo, l'intelligenza emotiva, è alla base del concetto dell'empatia. Senza intelligenza emotiva non c'è empatia, senza educazione, sviluppo all'intelligenza emotiva cresciamo figli analfabeti da un punto di vista emotivo. Allora, io ritorno anche, dato che si parla tanto di, io credo che sia necessario ritornare proprio alle funzioni, a ripetere come e quali devono essere le funzioni educative, no? Messe in atto dai genitori, ma noi non parliamo, parliamo dei genitori che sono anche di persone diverse, anche che vengono da culture diverse, da classi sociali che anche loro, deprivati loro stessi dall'affettività, che non possono insegnare l'empatia all'affettività perché loro non l'hanno avuto. Quindi io credo, questa è una mia considerazione, che se indipendentemente dall'azione posta adesso dal governo che condividono, no? Educazione all'affettività, rispetto, le scuole, eccetera, ma che ci deve essere una presenza anche in quartieri, situazioni in cui lo psicologo accompagna i genitori, non i figli, i genitori, e da lì la matrice, no? Da quando nasce, no? Questa cosa, accompagnare i genitori, voglio spostare l'attenzione dai figli ai genitori perché sono i genitori stessi che qualche volta hanno difficoltà, no? A poter insegnare o trasmettere quell'empatia, quell'affettività e discernere cosa serve per far crescere, per diventare autonomo, responsabile e capace di riconoscere nel proprio figlio, no? Le sue punti di forza, le sue debolezze e come gestirle e come viverle Certo Cosa dice dottoressa su questa mia ulteriore, perché io dico perché sono i figli, i genitori no? Assolutamente Stiamo qui parlando da tre puntate proprio sui genitori I genitori ma gli adulti in genere, i genitori da un lato, gli adulti intesi come agenti educativi quindi gli insegnanti, gli allenatori, gli educatori parrocchiani, tutte le persone che hanno a che fare con gli adulti, con i ragazzini, certo in primis la famiglia e questo vuol dire dare la possibilità di avere servizi accessibili da un punto di vista sanitario, quindi dove gli esperti possano fungere come diceva Pocanzi da accompagnatori, no? Possano tentare di sciogliere quei nodi, accompagnare i genitori nel loro percorso di genitorialità consapevole e competente ma per fare questo c'è bisogno di servizi dove lo psicologo sia effettivamente presente in un numero, in una disponibilità dove effettivamente sia accessibile, no? Servizi che possano essere per esempio gratuiti, oggi tutto questo è estremamente limitato a livello quindi diciamo sanitario nei servizi che conosciamo ma anche a livello scolastico dove sia il genitore che il ragazzino ma che l'insegnante possa avere un punto di riferimento tecnico, specialistico con cui rapportarsi quindi credo che le nostre politiche sanitarie e sociali e gli interventi di chi ci governa non possa prescindere anche qui dalla multidimensionalità e quindi pensare alla multidimensionalità per fare e creare interventi che possano abbracciare più ambienti, più settori e arrivare capillarmente ad intervenire laddove è necessario ad accompagnare l'adulto e il ragazzo in questo percorso verso l'affettività e la corretta discriminazione dell'altro, delle emozioni e del rispetto Io la ringrazio anche per questa sera abbiamo finita dottoressa, l'abbiamo avuta per tre puntate ci siamo incontrate tre volte, mi piacerebbe averla ma non posso abusare della sua disponibilità e comunque la ringrazio, spero nel futuro, spero che anche arrivino delle domande o delle richieste più precise per poter discutere di questi argomenti che ci toccano tanto da vicino e che ci sono molte persone che vogliono collaborare a risolvere questi problemi, questo bisogna dirlo Sì, penso che per fare prevenzione dobbiamo metterci tutti in gioco e cercare di intervenire non solo per gestire poi situazioni così drammatiche come quelle a cui assistiamo ma per cercare di intervenire in tempo utile perché tutto ciò non accada Sì, perché io credo che nessuno di noi possa girarsi dall'altra parte No, ha ragione Grazie, grazie a voi Grazie Buonasera Per questa sera è tutto, buonasera Grazie Grazie Grazie